Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 95esima puntata del podcast di Marcos Box. Bene, bene, bene. Apriamo questa puntata parlando dell'argomento preferito da grandi e piccini nelle ultime settimane, ovvero del ritorno di Richard Solomon all'interno della FreeSoft Foundation e di tutte quante il codazzo di polemiche che sono nate a seguito di questa decisione della FreeSoft Foundation di rimettere il nostro caro Richard come membro del consiglio di amministrazione della FreeSoft Foundation, quindi non come presidente, non come leader, ma come membro. Vedete, ecco perché io me la prendo spesso con tutti i detrattori di Richard Solomon, non è che l'hanno rimesso a capo come dittatore della fondazione, l'hanno soltanto reintegrata all'interno del consiglio di amministrazione come un membro, così come ci sono altri membri all'interno del consiglio di amministrazione della FreeSoft Foundation. Sapete bene che cosa è successo, sapete che le principali distribuzioni GNU, Linux, Fedora, Red Hat, Open Source, hanno deciso di interrompere tutte quante le sponsorizzazioni e quant'altro fatte nei confronti della FreeSoft Foundation, hanno deciso anche di interrompere sia le sponsorizzazioni ad eventi, ma hanno deciso anche di interrompere ad esempio quelle economiche, ma anche di forza lavoro, di contributi per quanto riguarda i progetti di Office of the Foundation. Anche progetti come LibreOffice si sono schierati contro, e praticamente gli hanno fatto terra bruciata con un comportamento molto discutibile, perché appunto hanno fatto un vero e proprio embargo nei confronti della FreeSoft Foundation. La FreeSoft Foundation comunque nelle scorse settimane ha pubblicato un annuncio che spiega il perché ha deciso di reintegrare Richard Stallman all'interno della FreeSoft Foundation, e ci sono state anche una specie di scuse da parte di Richard Stallman, che sapete bene è un po' particolare come personaggio, però comunque sta cambiando da quel che si può vedere. Quindi eventuali polemiche che possono nascere sul suo modo di fare, tutte le critiche che sono state fatte sono state prese da lui in maniera costruttiva e sta cambiando, almeno così pare. Bene, l'altra grande famiglia, l'altra grande distribuzione che doveva esprimersi, mancava ancora un parere, era la comunità di Debian. Debian sapete bene che è un progetto comunitario, è formato da tanti sviluppatori volontari e ha un approccio molto democratico per quanto riguarda tutte e quante le scelte da fare. Ebbene, che cosa hanno deciso i sviluppatori volontari del progetto Debian? Beh, hanno deciso di fare una votazione interna, volta appunto a decidere quale posizione prendere circa la riammissione di Richard Stallman all'interno del Consiglio della FreeSoft Foundation. C'è stata una votazione e erano state proposte per questa votazione sette posizioni differenti. Ogni posizione è stata argomentata ed erano tutte quante... C'era un sistema a multivoto, quindi un sistema un po' particolare, non è un sistema, diciamo così, a risposta secca. Debian utilizza il metodo di voto Coder Set, quindi i volontari possono esprimere un ordine di preferenze e non quindi un voto secco. Bene, alla fine l'opzione che è prevalsa, la posizione che è prevalsa, è quella di non rilasciare una dichiarazione pubblica su questo argomento. Questo significa che il progetto Debian non rilascerà nessuna dichiarazione pubblica sull'opportunità di rimuovere Richard Stallman dalla FreeSoft Foundation e qualsiasi membro del progetto Debian che desideri confirmare una qualsiasi delle lettere, sia quelle a favore che quelle contro questo argomento, bene, è invitato a farlo a titolo puramente personale. Quindi, tra virgolette, hanno deciso di non decidere, però io apprezzo molto questa decisione da parte della comunità di Debian, molto democratica e anche hanno evitato di prendere posizioni estreme come sono state prese da altre distribuzioni. Complimenti ai ragazzi di Debian. Parliamo adesso di Firefox. I sviluppatori di Mozilla hanno ufficializzato il rilascio di Firefox 88. Questa nuova versione stabile dell'unica alternativa allo strapotere dei browser basati su Chromium vede alcune interessanti novità. Però, fra tutti, supporta JavaScript nei moduli PDF, quindi adesso potete editare e gestire anche quei PDF che hanno dei moduli JavaScript. C'è stata aggiunta una cosa molto importante che è stata presa benissimo da praticamente tutti quanti gli osservatori del mondo Linux, ovvero è stata aggiunta l'opzione del pitch to zoom, quello lì che si fa quando avete presente il pitch to zoom. Se utilizzate uno smartphone o un qualsiasi dispositivo touchscreen, è il cicchia e ciacca visto quando fate il pipì e zoomate. Vabbè, comunque, l'ho detto in una maniera bruttissima. Comunque il pitch to zoom è stato ottimizzato mediante il touchpad su Linux. Adesso è bello fluido ed è piacevole da utilizzare. Quindi se avete un dispositivo touchscreen, ma anche se avete un laptop e quindi avete un touchpad, potete utilizzare il pitch to zoom e averlo uno bello fluido finalmente come giusto che sia. Quindi come altri browser più rinomati. Poi, al fine di aumentare la sicurezza e la privacy degli utenti durante la navigazione, Firefox adesso isola i dati Windows Name nel sito web che vi ha creati. Su Marcosbox trovate maggiori informazioni su questa modifica che ed è interessante. Oltre poi alle consuete correzioni di sicurezza, troviamo anche un fix per gli screen reader che ora non leggono più immoderato i contenuti che i siti web hanno visivamente nascorso, come nel caso delle guide di Google. Modifiche che sono state fatte poi per quanto riguarda la funzione di cattura schermata, che la funzionalità di cattura schermata è stata rimossa dal menu di azione delle pagine ed è stata messa in un menu contestuale. E il support FTP adesso è stato disabilitato e la sua completa rimozione è prevista poi per la successiva versione Firefox 89. Fateci un pensierino, utilizzate Firefox, provatelo. Adesso è anche molto piacevole da utilizzare con Linux per via del pitch to zoom bello fluido, quindi queste cose che piacciono a voi nerd, che utilizzate queste funzionalità. Io sono vecchio a scuola, io a massimo faccio lo scroll con il mouse per scrollare le pagine, vado con il mouse e proprio trascino la barra, sono vecchio io, lo so. Restando in tema aggiornamenti di applicazioni è stata rilasciata la versione 3.02 di Audacity, che non riesco ad utilizzare su Fedora perché mi dà continuamente problemi nella registrazione con il microfono esterno, ma questo è un altro problema che riuscirò fino alla fine a capire che diavolo gli è preso. Non funziona né con la versione Flatpak né con la versione da repository, mi dà l'errore 9.997. Vabbè, comunque, se troverò una soluzione la vedrete pubblicare su Marcosbox nelle mie consuete guide per risolvere i bug che mi affliggono. Comunque, quali sono le novità di Audacity 3.0.2? Bene, oltre alla consulita collezione di bug è stato aggiunto un rapporto più dettagliato per rintracciare eventuali problemi introdotti con il nuovo formato di salvataggio introdotto con Audacity 3.0. Quindi, in caso di errore ci sarà una finestra di errore, comparirà con un pulsante mettendo il quale sarà possibile avere il registro di sistema e inviarlo tutto al team di Audacity al fine di aiutare i sviluppatori a diagnosticare il bug e a trovare una soluzione. Chi poi utilizza delle funzionalità macro in Audacity per elaborare più file tollerà adesso una nuova preferenza chiamata macro output che serve per esportare i risultati perché in passato praticamente la funzionalità metteva i risultati dell'esportazione all'insieme dei file elaborati, quindi facevano una cartella unica. Potete comunque continuare a farlo andando a spunciare l'opzione, però adesso fa una cosa più ordinata. E poi, vabbè, i consueti correzioni di bug, come i bug che riguardavano l'effetto compressore che non funzionava per selezione più lunghe e altre cosine qua e là. E' l'unico programma per registrazione, per redditing, multitraccia, multipiattaforma, gratuito e libero, quindi sarebbe anche opportuno da parte nostra supportare il progetto con qualche piccola donazione e se sapete scrivere codice anche aiutare il negozio del programma perché, come vi dicevo, mi sono accorto proprio stasera, mentre stavo registrando questa puntata, dopo i bug che ho avuto con Audacity su Fedora, che non ci sono altre alternative perché ho visto, c'è il registratore ad esempio di suoni di, come si chiama, di Gnome che però non so per quale motivo, cioè è così essenziale, diciamo così, che non ti fa nemmeno scegliere quale fonte audio utilizzare e quindi ho un casotto ogni volta perché bisogna stare a modificare e quant'altro. Vabbè, comunque, chiusa parentesi. Chiusa la parentesi lamentere con Audacity, passiamo adesso alla notizia più succosa e più interessante di questa settimana. Un anno fa, durante la Build 2020, Microsoft aveva preannunciato l'intenzione di portare le applicazioni Linux complete di interfaccia grafica all'interno del Windows Subsystem per Linux al fine di poter eseguire applicazioni Linux complete di interfaccia grafica direttamente da Windows. A distanza di un anno è finalmente arrivata la prima anteprima di questa nuova funzionalità del Windows Subsystem per Linux e questa nuova funzionalità che è stata ribattezzata Windows Subsystem per Linux G che per G sta per voi è stata rilasciata questa funzionalità ed è disponibile con licenza, ovviamente, open source perché Microsoft... Ah, ma l'open source, ho mai secca vita. L'amore non è ricambiato, però. Comunque, stando al video che è stato pubblicato da uno sviluppatore di Microsoft che si sta occupando di questa funzionalità, bene, sembra che funzioni davvero bene e c'è anche un ottimo livello di integrazione nel sistema. Nel video che è stato pubblicato da parte di questo sviluppatore guarda caso si vede proprio Audacity in riproduzione e qui funziona benissimo su Windows Subsystem per Linux vedete un po' le cose assurde lui lancia con il Windows Subsystem per Linux una sessione di Audacity, versione per Linux completa di GUI che funziona perfettamente per registrare l'audio con la sua chitarra elettrica e io che sono sul Fedora con il microfono esterno non riesco a far funzionare Audacity. È comica questa cosa, vedi? Fa riflettere questa cosa se ci pensate vedete un po' i casi della vita. Comunque, il Windows Subsystem per Linux GUI, GUI, come cacchio lo potete chiamare questa cosa qua ci permette quindi di eseguire interi, interi applicazioni impensate per Linux ide come Getit, editor basati su JetBrains ma può essere utilizzato praticamente per sia per provare queste applicazioni su Windows ma anche per testare compilare ed eseguire il debug delle nostre applicazioni Linux in modo efficiente. Quindi adesso se siete utenti Windows che fate l'utilizzo del Windows Subsystem per Linux bene, ecco questa cosa potrete anche evitare di riavviare la vostra la vostra macchina di evitare di fare il dual boot e poter utilizzare direttamente le applicazioni Linux che scrivete, che fate o qualsiasi altra cosa lo potete utilizzare direttamente su Windows se abbraccia e se li estingui all'ennesima potenza proprio comunque come diceva qualcuno temo gli achi anche quanto portano doni e sto temendo Microsoft mi sta facendo un po' impressione un po' paura per questa cosa qua comunque andate su Marcos Box comunque se siete interessati a questa funzionalità per vedere il video per leggere le maggiori informazioni perché trovate il link della pagina dove è stato fatto l'annuncio e quant'altro e comunque vi ripeto gira davvero bene perché questo Windows Subsystem per Linux GUI, GAI come la chi lo vuote pronunciare è capace anche di sfruttare l'accesso alle GPU del Windows Subsystem per Linux e quindi è possibile eseguire applicazioni Linux con accelerazioni 3D che hanno accesso all'accelerazione della GPU ed è impressionante questa cosa davvero impressionante voi non so cosa ne pensate vediamo infine l'ultima parte di questa puntata del podcast parlando di distribuzioni Linux di nuovi rilasci perché questa settimana questo inizio di settimana c'è stato il rilascio di due distribuzioni più utilizzate più apprezzate dal panorama delle distribuzioni Linux sto parlando del rilascio della versione semestrale di Ubuntu Ubuntu 21.04 nome in codice IRSUTHIPPO è stata rilasciata ed è liberamente scaricabile da tutti quanti con i soliti link ovviamente sono state rilasciate anche i frameworks ufficiali quindi Ubuntu 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 vabbè ma vediamo quali sono le novità di Ubuntu 21.04 bene per quanto riguarda l'edizione principale quella con GNOME c'è Wayland come display server predefinito ovviamente è possibile comunque dialogarsi con la sessione XORG il supporto a Pipeware i kernel Linux 5.11 NF Tables che ora ha il back-end predefinito per Firewall l'aggiunta del supporto per l'autenticazione con Smart Card GNOME Shaker che viene rilasciato nella versione 3.38.5 con tutte quante le estensioni che rendono Ubuntu Ubuntu quindi con la dock laterale indicatore e quant'altro l'icone sul desktop insomma l'avete avuto modo di apprezzare come me questa interfaccia di Ubuntu e una serie di applicazioni che sono state aggiornate a GNOME 40 si è scelto di non aggiornare la shell all'ultima versione per consigliere la compatibilità con le estensioni utilizzate per ricreare l'aspetto tipico di Ubuntu ma anche perché questa prima versione di GNOME Shell ovviamente ha qualche bug dovuto alla giovinezza quindi si aspetta un po' più in là per avere qualcosa di più stabile di compatibile ovviamente la prossima versione semestrale conterrà GNOME 40 e vedremo come si comporterà Ubuntu con le sue personalizzazioni per la shell perché avete visto che GNOME 40 ha introdotto un concetto della shell leggermente stravolto rispetto al passato comunque vi dico anche un'altra cosa se volete aggiornare Ubuntu 21.04 a GNOME Shell 40 potete fare c'è un PPM un ufficiale non ho ancora postato la guida su Marcosbox probabilmente la posterò nei prossimi giorni dopo averla testata per capire bene se non distrugge mezzo mondo anche se sono sicuro che distruggerà mezzo mondo su 80 me perché i bug arrivano su 80 me io vi faccio lo scudo umano io sono lo shield del mondo Linux i bug me li becco tutti io come i bug di cui vedremo più avanti di cui vi parlerò nel prossimo nel prossimo ispezione di questa puntata del podcast comunque sono stati anche miglioramenti nell'estensione che si occupa della gestione del ringtone su desktop con l'aggiunta anche del drag and drop e poi sono state fatte alcune modifiche al tema di GNOME Shell e al tema GTK i free rules ufficiali bene kubuntu viene aggiornata a kdplasma 5.21 con l'applicazione R20.12.3 e il kdframework R5.80 ksubuntu viene rilasciato con xfce 4.16 e basta ok la novità più grande di questa versione è il passaggio agli indicatori a Yatana che fanno anche un mezzo casino con alcune applicazioni va bene questo è un altro di quei bug che guardo soltanto me poi magari ve lo spiego più avanti nei prossimi giorni sul blog c'è poi il rilascio di Ubuntu Ubuntu Mate 21.04 che tra le novità vede l'arrivo di nuovi applet e il nuovo tema Yaru Mate che di cui vi ne ho parlato anche su Marcosbox mi sembra forse sul canale telegram non ricordo che praticamente è il tema Yaru in salsa verde è quello inoltre poi i layout multiniti che fa adesso l'uso di Plunk come applicazione per gestire la doc Ubuntu vede l'arrivo di LXQT 0.16 che offre diversi miglioramenti rispetto alla versione precedente poi troviamo anche l'applicazione LXQT archiver 0.3.0 che è basata su Engram e Feather Pad se non ricordo male il nome vabbè che è praticamente un'applicazione per gestire appunti modifica codice e quant'altro Ubuntu Budgie invece vede Budgie Desktop 10.5.2 e nuovi applet e un nuovo tema predefinito Ubuntu Kirin che è la versione quella cinese vede l'arrivo della nuova versione dell'ampiente grafico UQui che detto così sembra strano fa strano come il nome vero e poi infine Ubuntu Studio 21.04 che è basata su KDA Plasma 5.21 quindi è praticamente una Qbuntu con una serie di applicazioni aggiuntive e basta perché vede soltanto l'aggiornamento del tema predefinito quindi non ci sono grandi novità per quando riguarda Ubuntu Studio 21.04 l'atto rilascio della distribuzione linux che è avvenuto proprio fresco fresco perché sto registrando questa puntata di 27 aprile quindi da poche ore è stato annunciato il rilascio di Fedora 34 la grande novità ovviamente di Fedora 34 riguarda l'arrivo di Gnome 40 nella sua interessa quindi comprensivo anche della shell l'altra grande novità di Gnome 40 riguarda Pipeware che sostituisce Pulse Audio il file system BTRFS con la compressione del file system trasparente basato su ZSTD che è abilitato per impostazione predefinita system OMD come è che si pronuncia system trattino OOMD che serve per gestione arame e quant'altro e ARFBuds abilitato in FreeType per migliorare il rendering dei font che però io non ho visto tutti questi miglioramenti nel rendering dei font anzi mi fanno un po' schifo ovviamente poi c'è l'arrivo di Wayland che è la sessione predefinita sia su l'edizione con Gnome che sulla spin basata su KDE plasma l'ho installata perché mi ha fatto prendere subito la scima e ho detto si si installiamo anche perché adesso ho finalmente capito come risolvere il problema di mutter che causa i colori sbagliati e nei prossimi giorni vi dirò maggiori informazioni su cosa penso di Fedora 34 magari ne parlerò nel canale telegram o forse farò anche un articolo sul bloc non lo so dipende dal tempo ovviamente comunque le prime impressioni sono perché c'è sempre quelle cosine che non mi vanno tanto giù come il fatto della gestione dei driver in video perché bisogna passare per RPM Fusion il fatto che ci sono alcuni problemi con alcune applicazioni che non riesco a capire da dove derivano vi ho detto prima con Audacity il problema che ho avuto e poi vabbè alcuni pregiudizi miei nei confronti di Fedora vabbè quelli sono pregiudizi miei di cui non vi parlerò perché altrimenti dite che sono una persona brutta e cattiva nei confronti di Fedora restando in tema Gnome 40 vi ho detto che finalmente sono riuscito a capire come risolvere il problema che avevo con Gnome 40 dovuto a Mutter e ho pubblicato poi su Marcosbox una guida che vi spiega come risolvere un bug che sta affliggendo per la prima volta non soltanto me perché è un bug che affligge anche altre persone quindi malcomune mezzo caudio anche se sembra che per ora non ci sia una soluzione imminente che cosa succede? succede che quando siete su Gnome 40 e andate a installare i driver proprietari però ci sono anche segnalazioni di alcuni utenti che hanno questo problema con i driver AMD quindi non lo so non ho capito bene che cavolo succede comunque se avete i driver Nvidia proprietari forse potreste avere problemi come il sottoscritto perché non è un bug che capita a tutti quando andate a avviare la sessione XORG per poter sfruttare i driver Nvidia con Gnome 40 che succede? succede che praticamente lo schermo viral rossiccio giallino vabbè dipende dalla vostra sensibilità ai colori come lo volete chiamare il colore io lo vedo più su giallino però da quel che vedo da quel che dicono tutti quanti lo vedono più sul rossiccio comunque cos'è questo bug? questo bug fa appunto questa tonalità strana sembra come se ci fosse il redshift attivo come si fa momentaneamente a mettere una pezza a questo problema? bene bisogna andare nelle impostazioni di sistema andare nella gestione del colore e mettere un profilo differente per il profilo colore ok? mettere lo spazio standard srgb e si risolve questo problema è un bug che vi ho detto sta capitando sia al processore di driver in video proprietario ma anche ad altre persone che sia una cosa legata al monitor non lo so fatto sta che le modifiche che sono state apportate a Gloom o meglio a Mutter fanno sì con l'ultima versione con Mutter 40 che ci sia questo bug che affligge alcune persone dovrebbe arrivare una correzione con la qualche minore resi di gnome vi farò sapere quando arriverà questa questa correzione che è poi il motivo per cui ho deciso di installare Fedora 34 perché ho detto un mero testo sulla distribuzione preferita degli utenti gnome vediamo se magari arriva con un minor update in breve tempo questa questa correzione almeno su Fedora sono sicuro che lo posso testare subito infine per questo ultimo pezzone di di podcast vi voglio parlare di PopOS torniamo a parlare di PopOS nelle scorse settimane vi avevo parlato di Cosmic Desktop che è praticamente la versione di gnome sceglio personalizzata da parte di team di System 76 che vedremo su PopOS 21.04 la prossima versione stabile di PopOS il cui rilascio è previsto per il mese di giugno 2021 quindi toccherà aspettare ancora un altro po' quali sono le novità di questa versione ve ne ho parlato c'è quella presenza di un add-hoc in basso una serie di estensioni che rendono più piacevole l'utilizzo sia con mouse tastiera ma anche sia con mouse che con la tastiera quindi se siete utenti come me che preferite il punto e clicca vi troverete benissimo con questa interfaccia ma anche se amate le scorciatori da tastiera si velocizza il tutto si velocizza molto l'approccio al desktop l'approccio alla navigazione del sistema e ovviamente chi sono io per non provare questa interfaccia questa nuova interfaccia grafica subito l'ho provata ho fatto un upgrade manuale di PopOS 20.10 alla versione di sviluppo 21.04 e ho pubblicato su Marcosbox un video che trovate anche nel canale YouTube se vi seguite su YouTube nel quale vi illustro quali sono le novità previste da Cosmic l'interfaccia grafica nuova di PopOS 21.04 e sono rimasto piacevolmente sorpreso davvero davvero ben fatto trovo molto interessante anche il comportamento del tasto del tasto super con l'avviatore applicazioni che è molto comodo andate a vedere andatevi a vedere i video oh stavo facendo davvero un bel lavoro e che dire si parla ogni volta ogni volta che parlo di Gnome ogni volta che parlo di queste interfacce alternative non posso che pensare al fatto che gli sviluppatori di Gnome se ne fregano altamente di rendere i desktop interessanti usabili per la maggior parte delle persone proseguono con le loro fisse tipo il fatto che non devono esserci gli indicatori io non lo so perché gli indicatori 3 che mal vi fanno gli indicatori 3 ci sono indicatori quelli di sistema con volume e quant'altro perché non ci mettono quelli di terze parti io non so perché avete questa fissa tutti i sistemi operativi mi supportano queste cose tutti quanti desktop environment mi supportano queste cose a parte voi e cose quelli di elementare OS di Pantheon che vabbè quelli di Pantheon poi almeno quelli vedi come si chiama lo sviluppatore principale di Pantheon di elementare OS mi ha dato anche una risposta mi ha anche risposto su Twitter perché io una volta gli ho fatto notare questa cosa e mi ha anche risposto almeno lui ha una visione mi era spiegata la sua visione quindi di Gnome non l'ho capito perché prima c'erano poi non c'erano non lo so non vi capisco voi di Gnome comunque apprezzo tanto quello che hanno fatto gli sviluppatori di PopOS che hanno deciso anche di accontentare gli utenti perché loro si sono accorti giustamente che la maggior parte degli utenti utilizzano una doc e quindi vanno a mettere una doc e hanno aggiunto una doc tra le estensioni di default personalizzate a modo loro però quindi sono venuti incontro agli utenti invece voi di Gnome non c'erano di faria niente lasciare così che poi non zanno manco loro come la Puginoce perché abbiamo visto che fino alla 3.38 in un modo adesso l'hanno modificata con la 40 e sono emersi anche dei nuovi dei mock-up che vedono anche degli stravolgimenti ulteriori della Shell quindi decidete prendete una direzione intraprendete quella direzione e portate avanti e state a sentire un po' la comunità di tutte quante le persone che utilizzano Gnome io conosco tanti io anzi conosco praticamente zero persone che utilizzano la Shell nuda e cruda tra i miei lettori e i miei amici nessuno non fa statistica non ho una community di miliardi di persone utilizzanti green però tra i miei lettori non c'è questa questa non c'è questa fissa di utilizzare la Shell nuda e cruda utilizzano sempre una doc utilizzano spesso una doc anzi utilizzano Dash to Panel utilizzano una serie di estensioni per esempio quella per gli indicatori cioè moltissimi utenti lo fanno e moltissime distribuzioni come Pop OS vanno a mettere una pezza come Ubuntu che vanno a mettere una pezza ma anche come mangiare vanno a mettere una pezza non lo so perché boh lo so con i sviluppatori di Gnome io faccio sempre fatica a capirli comunque se siete all'ascolto i sviluppatori di Gnome andate a vedere che bel lavoro che hanno fatto quelli di Pop OS e andate a prendere spunto potete prendere spunto sia da Pop OS ma anche dagli sviluppatori di Ubuntu da Pop OS particolarmente perché non la stravolgono proprio completamente l'interfaccia l'interfaccia grafica la vanno a correggere che è quello che è cosa buona e giusta dovrebbero comunque gli sviluppatori di Pop OS facciare una piccola guarda l'unica piccola critica che posso fare gli sviluppatori di Pop OS è per i temi di sistema che hanno quelle tonalità che non so soprattutto la versione chiara del tema di sistema che andrebbe un po' modificata un po' svecchiata che è un po' pesante le icone sono belle però alcune cose nei core andrebbero sistemate nel tema di Pop OS vabbè comunque sono soltanto fisse mie perché sapete bene si può cambiare tema però quei piccoli passettini in più quelli di Pop OS potrebbero fare comunque ripeto andatevi a vedere su Marco's Box i video su Cosmic Desktop Desktop se no poi c'è uno dei miei lettori in particolare che si incazza che dico che non produce bene desktop vabbè quella cosa e fatemi sapere che cosa ne pensate magari lasciate un commento in calcio sia al blog o magari anche al canale YouTube mi fa piacere sapere cosa ne pensate voi di questa interfaccia ebbene con questa ultima notizia si conclude qui questa novantacinquesima sì non ricordo ma sì la novantacinquesima ma non mi ricordo manco vedi passato così tanto tempo da quando ho iniziato la registrazione che mi sono dimenticato anche il numero della puntata sì sì è 95 dicevo e termina qui questa novantacinquesima puntata del podcast di Marco's Box l'unico podcast dove il conduttore si dimentica anche il numero della puntata quando finisce di fare la puntata quindi sono un caso più unico che raro e che dire lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo nella prossima puntata del podcast di Marco's Box sapete dove trovarmi se volete seguirmi potete seguirmi sulle pagine di Marco's Box potete seguirmi sul canale YouTube dove ogni tanto pubblico qualche video potete seguirmi sul canale Telegram di Marco's Box dove praticamente è un feed di tutte quante le notizie pubblicate su Marco's Box ogni tanto pubblico anche qualche tra qualche altra cosa non inerente al blog potete seguirmi abbonandovi ai feed che sono uno dei pochi siti me l'hanno detto in tanti che continuano a offrire i feed quindi trovati i feed RSS del podcast quello della sezione GNU Linux il feed generale perché su Marco's Box non si parla soltanto di Linux c'è anche il feed OpenStreetMap che non viene utilizzato più di nessuno perché Stefano Stefano non pubblica più notizie su OpenStreetMap mannaggia lui comunque potete seguirmi tramite i podcast potete seguirmi su Amazon perché praticamente adesso sono anche sono iscritto anche ad Amazon Music con i podcast ovviamente in maniera gratuita potete seguire i podcast ovunque mi trovate su Apple Podcast mi trovate su Spotify mi trovate su Google Podcast mi trovate su Tostapane mi trovate ovunque e vi ricordo infine che potete seguirmi potete aggiungere al canale della community di Marcosbox che trovate link sul blog quindi accorrete numerosi così facciamo troviamo un punto di incontro si parla di tutto all'interno della community di Marcosbox non si parla soltanto di Linux quindi non è uno di quei gruppi brutti settari dove si parla soltanto di una cosa il cazzeggio è garantito sulla community di Marcosbox e infine vi ricordo che da qualche settimana ho aperto anche un canale Telegram che trovate sempre su Marcosbox con le offerte di Marcosbox per i lettori di Marcosbox non trovate miliardi di offerte come gli altri canali Telegram sono tutte e quante offerte Amazon perché ho deciso di aprire questo canale semplicemente perché lo fanno in tanti c'è la possibilità di supportare il blog facendo un acquisto su Amazon utilizzando il codice Marcosbox trattino 21 vedete di qua appunto se fate qualche acquisto su Amazon utilizzando il mio codice il mio referral una piccola parte dei proventi del vostro acquisto voi non pagate di più Amazon che mi dà una piccola parte di proventi qualche centesimo che posso utilizzare per buoni regali su Amazon per poter fare acquisti per migliorare anche i blog e quant'altro e niente trovate il canale Telegram che è con l'offerta trovate anche il bannerone su Marcosbox quindi se non volete seguire il canale Telegram potete cliccare sul bannerone che vi riporta al mio codice referral se volete supportarmi mi fa piacere se non lo volete fare mi fa piacere lo stesso non me la prendo con voi lunga vita e prosperità a tutti quanti alla prossima settimana ciao ciao